Buongiorno a tutti ragazzi, oggi un'uscita tranquilla senza everester, senza professionisti, senza triatleti anche perché oggi non ce l'avrei fatta a stare insieme a loro perché ce l'ho gambe a pezzi Allora, quest'anno ragazzi, anzi l'anno scorso sono riuscito a portare a casa 4800 km ammazza che schifezza, sì ok, però io ho avuto il covid, sono stato 51 giorni segregato a casa e poi un'altra due mesi per riuscire a rimettermi in forma, facevo chilometraggi da 20 km e basta Allora, quest'anno mi voglio portare qualche chilometraggio in più Secondo voi, facciamo un sondaggio, secondo voi riuscirò a portarmi a casa più o meno 5000 km, 6000 km oppure azzardiamo 10.000 km Io l'anno scorso ho fatto anche 300 km correndo, che i veri runner dicono che 300 km non sono nulla però dai, 300 km correndo più quasi 5000 km in bicicletta qualcosa ha fatto e niente dai, scrivetelo sotto sui commenti, secondo voi quanti chilometri riuscirò a portarmi a casa nel 2022 5000, 6000 o 10.000, oppure meno di 5000, non lo so, ditemelo voi Noi come al solito ci vediamo al prossimo video e mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratis Noi come al solito ci vediamo al prossimo video e mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratis